In Italia siamo drammaticamente indietro, come abbiamo mostrato il 4 ottobre nel rapporto dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, siamo indietro sui temi sociali, sui temi ambientali e naturalmente anche su aspetti economici. Non abbiamo una prospettiva di crescita sostenibile e dunque abbiamo proposto una serie di cambiamenti ma serve un cambiamento di mentalità a livello politico, nelle imprese e anche nei media che spesso presentano le questioni ambientali, sociali ed economiche come scollegate tra di loro. Abbiamo poco tempo, ne abbiamo già persi tre anni dei 15 dell'agenda 2030, abbiamo assoluto bisogno di accelerare.